Sì, veramente la mia prima conferenza nella mia vita, non l'avevo mai fatto questo. No, sono un ragazzo nato in Argentina che a 19 anni ha preso la decisione di venire in Italia sempre per il calcio, come si dice, a provare fortuna e sempre con lavoro, impegnandosi, sempre lottando, va raggiungendo i suoi obiettivi. Quello che guardo molto io è Franco Armani, perché sono tifoso del River in Argentina, quindi è uno che guardo molto. In quanto riguarda il contratto, il mio contratto scade a giugno, i miei procuratori stanno lavorando per il rinnovo, ma io penso soltanto al campo e a giocare e a fare bene. No, penso che dopo che abbiamo fatto queste tre vittorie di fila, non solo vittorie, ma anche con grandi prestazioni, penso che siamo carichi, che dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Pensiamo a partita a partita e proviamo sempre ad arrivare il più alto possibile.